Dalla Sardegna sono arrivate notizie confortanti per il futuro più prossimo della Pistoese, chiamata a concentrarsi su questa fase finale del girone d'andata che la potrebbe portare lontana dai play-out. La vittoria conseguita ad Olbia ha rinforzato il morale dell'intero clan arancione. La squadra ha vinto meritatamente, proponendo alcuni giocatori, prima fra tutti il giovane attaccante Federico Varano, autore di una splendida doppietta che ha spianato la vittoria contro gli uomini dell'Ecce Semignani. Ottime anche le prestazioni di Proia, Feola, Priola e Rovini. Domenica prossima al Melani c'è un appuntamento di fondamentale importanza contro il Racing a Roma, squadra superata sul proprio campo mercoledì scorso dal tutto cuoio. Si gioca con calcio d'inizio alle 20.30. Il tecnico arancione Remondina sembra intenzionato a confermare gli stessi uomini che hanno vinto in Sardegna. Il giovane Varano pertanto partirà dal primo minuto per la seconda volta consecutiva in sostituzione di Corrado Colombo che sconta la seconda giornata di squalifica. In difesa ci sarà ancora San Martino in sostituzione di Zeroy infortunato. Il resto dello schieramento dovrebbe rimanere invariato.